Bentornata e bentornato su Italian Time Zone, il podcast che ti aiuta a scoprire la storia e la cultura italiana e a trovare la tua voce in italiano. Oggi continuiamo il nostro viaggio alla scoperta delle gallerie commerciali italiane di fine ottocento. Michelangelo è sempre qui con noi, ti ricordo che Michelangelo è blogger e docente di storia dell'arte e puoi trovare online il suo podcast e il suo ricchissimo sito su quellodiarte.com. In questo episodio andiamo a scoprire la terza galleria risorgimentale di questa miniserie, la galleria Sciarra Colonna a Roma e si sa, ci vuole sempre un altro viaggio a Roma, poi soprattutto dopo che ti ho conosciuto che mi hai aperto un mondo su Roma, perché in tutto ciò abbiamo registrato gli episodi su Roma un anno fa, mi ha ricordato il mio mondo di internet e io ero già in Nuova Zelanda, quindi è praticamente un anno che io penso a Roma e dopo tutto quello che ho scoperto grazie a te di Roma devo proprio tornare a Roma. E oggi hai un'altra chicca su Roma, o forse due, proprio perché la conosci molto bene, che è appunto la terza galleria di cui vogliamo parlare oggi, perché hai scelto proprio questa. Allora, questo raccontiamo ai tuoi ascoltatori, ai nostri ascoltatori. Allora, tu mi hai proposto all'inizio un monumento a Vittorio Emanuele II, ho detto cazzarola però, due gallerie da tomba, mi sembra un po'. Anche se il discorso di Roma ha un senso, perché Roma avendo un carico più istituzionale, magari costruire una galleria avrebbe avuto un senso, e c'è stata, adesso la vedremo, ma anche il monumento a Vittorio Emanuele II ha un suo senso, non so perché, ovviamente una sua importanza straordinaria. Solo che ho pensato e ho detto, vabbè, perché a Roma c'è la galleria, c'è la galleria, quella attuale si chiama Alberto Sordi, quando ero bambino si chiamava Galleria Colonna, e poi quando è morto Alberto Sordi, dal 7 dicembre 2003, qualche anno dopo, l'hanno inaugurata proprio a lui, a questo importante attore romano, e quindi diciamo ne resta memoria anche questa è una cosa importante. Anche Galleria Alberto Sordi ha tutte le belle caratteristiche che abbiamo elencato fino adesso. Però un problema nella nostra chiacchierata è che, visto che volevamo parlare di gallerie, diciamo, risorgimentali fondamentalmente, quelle costruite dopo l'Unità d'Italia, la galleria Colonna, la galleria Alberto Sordi, ci arriva abbastanza dopo, perché anche se il progetto, l'idea c'era stata dal 1872, in realtà la giunta capitolina, che è una giunta molto veloce e risaputamente, ha approvato il progetto solo nel 1911, quando più o meno si inizia a chiudere questo periodo del Liberty, della bella epoca, e la costruzione, secondo me, è stata un po' troppo anacronistica per i tempi, perché poi è stata conclusa nel 1922. Quindi ho pensato, forse Giulia è il caso, se poi ci siamo dati l'assist d'accordo, che probabilmente, ok, Vittoria Emanuele ce lo ne parleremo poi, la galleria Colonna forse è troppo presto, però mi sono ricordato che accanto c'è un piccolo scrigno di quelli che forse a te gli ascoltatori piace tantissimo, di queste chicche, che è la galleria Sciarra, Colonna, c'è sempre un Colonna, ed è uno dei più belli esempi di Liberty che potete trovare a Roma, oltre alla galleria Alberto Sordi, oltre, ricordo che poi è anche fantastica, la sinagoga di Roma, che è da vedere assolutamente, se passate, che è tra le poche entità Liberty che abbiamo in città. Quindi, se vogliamo vedere proprio l'arte che nasce in quel periodo, queste tre sono delle istituzioni, solo che la galleria Sciarra Colonna è tra quelle meno note, proprio perché spesso, diciamo che ha un'apertura al pubblico abbastanza ridotta, alle 18.30 è chiusa da sera, e poi anche perché non è così grande da poter ospitare bar, anticamente sì, aveva un centro commerciale, dei luoghi comunque per far vedere le novità, ma rimane sempre un po' fuori dal percorso, anche se, va detto, è proprio tra Via del Corso e Fontana di Trevi. Quindi, crediamo bene che è in una zona di Roma molto centrale, però poco conosciuta. Sicuramente. Ma come mai questo nome? Da dove viene questo nome Sciarra Colonna? Sciarra e Colonna sono due importantissime famiglie romane, che ovviamente si uniscono soprattutto nella figura di Maffeo Barberini, Colonna di Sciarra, ottavo principe di Carboniano. Mamma mia, ragazzi! Me lo sono scritto perché qui te lo puoi solo scrivere, anche perché se no qui tra Blasone e altre cose ci perdiamo completamente. A parte questi nomi lunghi… Complimenti al nome, noi che siamo così, semplici. Ma più nomi, più importanza. Possiamo chiamarlo comunque naturalmente Maffeo Barberini, Colonna di Sciarra, lo mettiamo per un po', ordina all'architetto Giulio De Angelis la costruzione di questo edificio. E, va detto, De Angelis aveva già fatto il Palazzo della Rinascente, che è un altro centro commerciale che è sempre lì vicino. C'è tutta una zona tra Galleria Colonna, Galleria Sciarra Colonna. E anche questa stessa galleria rientra in un lungo complesso che fa parte poi di quello che è il Banco di Roma. Quindi vedi come rientra sempre il discorso della ricchezza, dello sfarzo. E la galleria diventa proprio l'inciso. Immagina un banco che ha all'interno anche una galleria. E soprattutto anche in questo caso, come abbiamo visto per Milano, come per Napoli, anche qui c'è il teatro vicino, che è il teatro querino. Ecco. Ecco che torna tutto. Sì. Perché il teatro è il luogo comunque del divertimento, del piacere, insomma. E quindi è l'opera d'arte globale. Guarda, non cambia nell'idea. È qualcosa che deve veramente eccitare tutti i sensi. Perché poi immagina anche nel luogo anche i profumi, i rumori, i canfè chantante, come dicevamo prima, il modo di fare. E quindi ecco, io vi consiglio di andarvelo a vedere perché veramente ecco, questo è uno dei luoghi un po' come il Gambrinos, vi dicevo prima, che tornate indietro nel tempo. Perché? Perché entrate e c'è poca gente. E quindi non avete quell'aggancio di persone anche vestite come voi che vi ricordano dove siete. Ma la cosa bella è proprio il luogo. Alzate gli occhi. Di nuovo, grandi affreschi questa volta. Non c'è il marmo. È qualcosa di molto più intimo perché l'affresco comunque è qualcosa che è dipinto, insomma. Non è più solo decorazione che è qualcosa che riguarda gli esterni. Ma qui abbiamo una pittura, qualcosa che invece noi agiamo all'interno degli edifici e poi in alto c'è di nuovo il soffitto, sempre in vetro e in ferro, che comunque ritorna a quel concetto di modernità. Considera che poi nel tempo è stata riconsolidata, ma comunque l'aspetto è quello originale. Questa cosa che hai detto sugli affreschi è molto interessante. E cosa raccontano questi affreschi? Cioè c'è un filone narrativo? Come no? È fantastica. Io dico che questa tra tutte le gallerie che abbiamo visto è una galleria femminile. Ok. Che rappresenta veramente quello che è il fascino della donna. Anche il modo di essere decorata. Abbiamo detto che un affresco a volte trattino in causto. Comunque tecniche antiche e importanti, ma la cosa più importante è il ciclo narrativo che noi vediamo all'interno di questa galleria. E impariamo a conoscere un nome, Carolina Sciarra Colonna. Troverete un riferimento a lei nelle iniziali che troverete spesso all'interno della galleria CCS, perché lei è la madre di Maffeo Barberini e lui dedica la decorazione alla madre. Ed è particolare, perché qui ci fa capire un aspetto di come era vista la donna a quei tempi. Infatti tutta la decorazione parla proprio della glorificazione della donna in quelli che sono i modelli delle virtù femminili. Ovviamente noi ne abbiamo di nuovi importanti, ma questi erano quelli dell'Ottocento. Poi te li elenco perché mi sono fatto una breve rassegna. Cioè la brava signora, la brava donna nell'Ottocento, scusate in questo momento ovviamente però ricollochiamoci, doveva essere. Doveva, era, perché comunque la bellezza era in questo, la bellezza della donna era in questo, era la sobria, la pudica, la forte, la umile, la prudente, la paziente, la benigna, la signora, la fedele, l'amabile, la misericordiosa, la giusta. Ecco, le donne dipinte dal pittore che poi è Chiellini, un pittore che ha realizzato questo, sono donne che rappresentano grazie e eleganza, un po' una donna diversa dalla donna del Liberty che era una donna molto forte, però ha tutte le caratteristiche in questo che poi le riscontriamo in qualche modo, no? In cui la donna che poi magari è narrata anche da Ibsen in casa di Bambola, comunque donne emancipate che comunque sono degne di un omaggio e qui mi vorrei soffermare anche sul discorso di come diventano caratteristiche della donna, se vi capiterà di vedere altri affreschi che riguardano queste virtù, in realtà sono donne che rappresentano la virtù. Ok. Nel senso, c'è un bellissimo affresco a Siena che si chiama l'allegoria del buon governo. Ok. Tutti quei che tratti allegorici del buon governo, fantastico, c'è la fortezza, la giustizia, ok, la magnanimità, eccetera, eccetera, sono rappresentate da donne. Sì. Qui, vedi, non sono donne che rappresentano le virtù, ma sono le virtù a diventare donne, che è ancora più impotente come discorso quello che fa Chiellini in questi affreschi, quindi è qualcosa di veramente distintivo di come venisse vista la donna nell'Ottocento e come stava trovando la sua importanza sociale, non più soltanto una derivazione estetica, ma proprio una presenza forte e quindi questa modernità che noi stiamoci trovando nelle gallerie, ecco, nella galleria Sciarra Colonna diventa forse la vera chiosa di come si stavano indirizzando i tempi e ciò che ci ha portato a noi. Maffèo Barberini è forse stato avanti rispetto ai tempi, nella celebrazione della madre fa vedere la grande emancipazione di quella donna ottocentesca. Wow, questo non lo sapevo, è molto molto interessante e penso di non essere mai passata da questa galleria e quindi sicuramente un ottimo motivo per tornare a Roma. Ci vai spesso? Ci passo spesso, anche perché là ovviamente ci sono tratti goderecci che conosco e là te ne dico uno che sta proprio a pochi meriti, c'è l'antica birreria Peroni dove si mangia benissimo spendendo poco e poi ovviamente per tutto il giro di via del corso, comunque quando si fa la passeggiata al centro è uno dei luoghi dove io e mia moglie ci piace fermarci, passare un attimo, anche perché veramente è un attimo di pace, di godimento insomma, quindi va vista, va conosciuta e soprattutto va veramente ammirata perché non se ne può fare a meno. Bello, bellissimo. Beh, guarda, come sempre ci hai fatto emozionare e anche penso viaggiare con il cuore, con l'immaginazione grazie al cielo oggigiorno abbiamo internet e quindi tutte le cose di cui abbiamo parlato sono ovviamente rintracciabili sul web per cui invitiamo sempre le persone a fare delle ricerche aggiuntive andare a guardare le foto, andare a cercare comunque i film, le canzoni di cui abbiamo parlato io sicuramente le metterò in descrizione però invito sempre chi ascolta a cercare queste informazioni proprio per avere anche un supporto visivo. Abbiamo viaggiato da Milano con la galleria Vittorio Emanuele II, a Napoli con la galleria Umberto I e infine a Roma con la galleria Sciarra Colonna ed è stato un viaggio come sempre bellissimo e io Michelangelo ti ringrazio tantissimo per essere stato con noi e averci raccontato tutte queste chicche meravigliose. Grazie a te Giulia, è sempre un piacere. Ciao, alla prossima. Ciao, ciao. Thank you so much for listening. We hope these episodes have helped you enrich your knowledge about Italian history, art and culture as well as learn new words to make your Italian language more lively and real. If you like this mini-series and you would like to support this project, you can buy us a Ko-fi. You will find the links in the descriptions of these episodes and you can always send us your feedback on your questions on Instagram at Quello Di Arte and at Italian Time Zone. Have a lovely day. Ciao.